salve a tutti dunque questa è una situazione un po' particolare vi sarete accorti che questo è Resident Evil, sto giocando di nuovo online con la mia amica abbiamo qualche problemino qui perché c'è una specie di gigante che non vuole fotterci il culo eccolo qui cazzo come vedete qui c'è il grandissimo Chris altro che sto che co... ci sono tante armi yeah Emily French si qua questo schiatta io non mai cazzo ci darò una mano sto piazzando le cariche non posso lavorare con quello in giro grande sì 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 mythica image French Sì Ancora un po' di tempo Ok ce l'ha fatta Voglio scappare Via 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 Sono due torrette Ok sul prossimo bersaglio Andiamo Ok 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 Sto piazzando delle cariche sulle portazioni antiaeree ma ci vorrà ancora molto Sì 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 Grazie. 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 Oh, God. Vedete, c'è chi? Grazie. Good work, Camille. Yeah. Bello. Bellissimo. Sì, ma volevo parlarti di una cosa. Mr. Muller ha chiesto un compenso per questa sua collaborazione. 50 milioni di dollari. Sì. Sì, sì, capisco. Ok, chiaro di nuovo. Allora? Affare fatto? Sì, affare fatto. È stato facile. Oh. Da proposito. Quel tipo con cui chiacchieravi laggiù. Intendi, Chris? È quello. Che vuoi sapere? Eh, lascia stare. Eh, lascia stare. Oh, cacchio. Oh, cacchio. Oh, cacchio. Oh, cacchio. Non ho colpi, perché... Come al solito. Beh, 50 milioni. Anche un po' di lavoro. Oh, maledizione. Vuoi l'affare dalla cassa a voi, vero? Scusa. Non volevo metterti in pericolo. Niente paura, piccola. È per questo che mi pagano bene. 60. Sì, se è la cassa a voi... Seeeeee! If i peri, peri, per chi... vo... Eee... Letta. Ok. Dovrimi il volto! El licence. Fate i per i convi. che cosa aspettate si va di bene in meglio hey kutme Ci sta puntando! Comprati un elicottero tuo, bastardo ! Mamma mia! Guarda, dei paracadute Nooo, perché? Maledizione Guarda, dei paracadute Mamma mia, che video Uhhh, oddio Caduta libera Avevo tutte le tue informazioni salvate su delle schede dati Troviamole Durante una bufera di neve? Vuoi proprio che me li guadagni, quei saldi Ehi, guarda, c'è una baracca Finalmente un po' di fortuna Ok, prima troviamo i dati E poi andiamo a ripararci laggiù Sono accettiati E poi andiamo a riparare E poi andiamo a riparare Una baranga Ormai sono di casa per queste cose Mantieni la velocità Non voglio essere sepolto Non è una buona idea Troppo tardi ormai E poi andiamo a riparare E poi andiamo a riparare Abbiamo fatta finalmente Che cacchio E poi andiamo a riparare 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 Yeah Wow, che acustica Attenta dove cammini Quanto sarà profonda questa miniera Sì, no, non c'è nessuno, non c'è nessuno. Cioè, perché? Per quale motivo? Cioè, perché? Cioè, perché? Cioè, perché? Cioè, perché? Cioè, perché? Cioè, perché? Jake! Cioè, perché? 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 Cioè, perché?